8 gli studenti universitari feriti coinvolti ieri pomeriggio in un incidente tra due autobus di linea extraregionale all'altezza dell'Università della Calabria a Rende. Secondo una prima ricostruzione uno degli autobus era in sosta all'ombra sotto il cavalcavia, l'altro pullman arrivando dallo stesso senso di marcia non sarebbe riuscito a frenare in tempo tamponando il bus. Per cause ancora in corso di accertamento, i due autobus appartengono alla stessa ditta e uno dei due proveniva da Campora San Giovanni con a bordo gli studenti universitari diretti all'Unical. Dei giovani feriti uno è giunto al pronto soccorso dell'annunziata con un politrauma a osseo ed è in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, i vigili urbani e i carabinieri.